E adesso anche il tram 28 a nostalgia di Tabucchi. Questa è la frase che scrisse un autore spagnolo Manuel Rivas su un quotidiano all'indomani della scomparsa di Antonio Tabucchi il 25 marzo del 2012. Anche il tram 28 a nostalgia di Tabucchi. Come a dire che il tram storico della capitale portoghese, il tram giallo che gira per le vie del centro, può avere nostalgia di uno scrittore che ha raccontato così meravigliosamente Lisbona. Ma in generale un tram può avere nostalgia di uno scrittore? Sì, se questo scrittore è riuscito a far sentire un'atmosfera, a lasciare addirittura un segno, un'impronta dentro un'atmosfera. Se dico tabucchiano, questo risuonerà familiare a moltissimi lettori di questo grande scrittore, perché un'atmosfera tabucchiana è un'atmosfera tipica di questo scrittore. Magari è fatta di una canzone che entra da una finestra aperta, ad una voce portata da qualcosa, come avrebbe detto lui chissà da cosa, oppure semplicemente di una giornata estiva, dell'intensità anche proprio di luce, di colore, di una giornata estiva, magari a Lisbona, che sfavilla come all'inizio di Sostiene Pereira, o magari è torrida come nel piccolo straordinario romanzo Requiem, in cui il protagonista è costretto a cambiarsi più volte la camicia. Tale è la quantità di sudore che percorre la sua schiena, mentre lui avanza un po' affannosamente alla ricerca di qualche fantasma con cui deve incontrarsi. L'atmosfera tabucchiana. Libro dopo libro Tabucchi riesce a farcela sentire con una tale potenza, con una tale precisione, che non riusciamo più a scollarcela dalla testa. Una volta che uno si è tuffato dentro Sostiene Pereira, o ha letto i grandi racconti degli anni 80-90, piccoli equivoci senza importanza, il gioco del rovescio, non può più dimenticare. E basta davvero mezza riga, basta una frase per ripiombare dentro al mondo costruito da questo scrittore così ossessionato dal tempo, che è anche un tempo atmosferico, talvolta è molto presente la meteorologia in Tabucchi, ma è un tempo di calendari e di orologi, è un ticchettio che somiglia a una partitura, è proprio ineliminabile dal suo orizzonte di scrittore, questo tempo che passa, questo tempo che stringe, questo tempo che invecchia, questo tempo che aggiunge e allo stesso tempo sottrae, questo tempo che va via, vola via, come aria da un palloncino, così dice in un racconto di quell'ultima raccolta bellissima che si chiama Il tempo invecchia in fretta, ma non c'è nostalgia o non solo, c'è anche la sensazione che qualcosa si possa fermare, che di tutto resti un poco e di tutto resta un poco, è anche il titolo di un suo libro di saggi, il libro che ha un titolo rubato da una poesia di un poeta che molto Tabucchi amava, di tutto resta un poco perché la scrittura afferma qualcosa, la scrittura lavora sulla memoria e quindi ferma, blocca, cristallizza delle sensazioni e le rende in fondo eterne, sovratemporali e così come diceva Tabucchi questo forse è la nostra piccola grande lotta contro il tempo, con il tempo, dentro al tempo, cercando di capire che cos'è effettivamente, domanda di cui forse non verremo mai a capo, e nello stesso tempo sforzandoci di trattenere qualcosa e intanto noi viviamo o scriviamo che è lo stesso, disse una volta Tabucchi, in questa illusione che ci conduce.